Siamo a Roma con Marco Cicogna per visitare in totale sicurezza il nuovissimo punto vendita Hi-Fi d'Agostini, frutto di quasi due anni di lavoro, tra progettazione e realizzazione, quest'ultima arrivata in un momento sicuramente molto difficile. La struttura è spettacolare e si sviluppa su 320 metri quadrati con spazi espositivi molto grandi e molto ben organizzati. All'interno ci sono ben 5 sale d'ascolto con dimensioni eterogene, da medio piccole a molto grandi, tutte arredate con gusto, con pannelli acustici Art Novion e trattamento disaccoppiante per tutte le pareti, soffitto e pavimento compresi. La zona accoglienza prevede una prima postazione d'ascolto con sistema audio-video per test delle soundbar da un lato e macchina lavadischi dall'altro a disposizione del pubblico a circa 3,5 euro per ogni disco, lavato e asciugato alla perfezione. La prima sala, con dimensioni medie, è dedicata alla stereofonia ed è sensazionale, sia per la cura dei particolari e alla qualità degli arredi, ma soprattutto per la neutralità timbrica e per la profondità della scena. La seconda sala, con dimensioni più generose, ospita un impianto residente a totale scomparsa, di tipo multicanale, Dolby Atmos e DTSX, in configurazione 7.2.4, quindi con 11 canali. Le poltrone sono comodissime, hanno in dotazione anche un pozzetto portabibide refrigerato. La terza sala è dedicata all'ascolto in cuffia e prevede una buona selezione di prodotti anche come sorgenti e amplificazione. La seconda parte del nuovo Hi-Fi d'Agostini può essere utilizzata anche in maniera completamente indipendente e comprende una reception con guardaroba, una piccola cucina e servizi igienici dedicati. In pratica una zona utilissima per l'organizzazione di eventi di varia natura, non necessariamente legati all'alta fedeltà. Da qui si accede alla sala Augusto, che è la più grande, quasi un adutorium con impianto residente, sempre a scomparsa, stavolta in configurazione 9.2.4. Alessandro, grazie e ben trovato. Intanto un sentito ringraziamento da parte mia, da parte di Emilio Frattaroli che è con noi, ma soprattutto da parte di tutti gli appassionati di musica, non soltanto di Roma e della capitale, ma di tutti quelli che ci potranno, speriamo più prima che poi, raggiungere. In questo nuovo D'Agostini Lab dedicato alla musica, all'architettura, all'arredamento di altissima qualità. La tua presenza a Roma non è una novità, è una novità in questa sede. Abbiamo già visto quali sono le sale che potranno ospitare eventi molto interessanti di ambito musicale e non solo. La mia particolare rispettazione per la musica mi fa semplicemente venire l'acquolina in bocca ancora una volta per le cose che potremmo organizzare in questo bel negozio. Che ne dici? Molto volentieri, veramente molto volentieri. Spero che presto potremmo stare assieme e goderci insieme un pochettino di musica, insomma, tornare un po' alla normalità e sicuramente la musica sarà un ottimo aiuto per farlo. Certamente Alessandro, d'altronde una cosa importante è che la mascherina non compromette o se non altro compromette poco il piacere dell'ascolto e quindi buona musica a tutti e presto da Agostini Lab a Roma, quartiere Monteverde, per interessanti novità sia dal punto di vista musicale ma anche dal punto di vista dei prodotti audio, video, stereo e multicanale che potremo sentire qui da te. Grazie ancora Alessandro. Grazie a voi, a prestissimo. Grazie.